di valorizzazione e tra l'altro io girando, sapete che sto camminando per la città, ci sono dei quartieri che io non chiamerei periferi, perché sono dei luoghi veramente, per certi di essere anche magici, hanno un valore secondo me straordinario, ma io dico una domanda, perché la mozzarella di Gioia del Colle costa a Como tanto quanto Gioia del Colle? Credo che su questo voi dovreste anche interrogarvi, faccio veramente un po' la domanda io, il chilometro zero non può funzionare se io spalmo il prezzo allo stesso modo indipendentemente dalla distanza, io sarei molto interessato a cercare di lavorare insieme per costruire delle piste che funzionano, una delle piste è quella dell'intermediazione ovviamente economico e commerciale, che induce tutti a pensare che il prezzo deve essere lo stesso, da Salerno a Trieste. Il mercato locale credo che sia una risorsa che va assolutamente valorizzata ma anche con un po' di progettualità e di intelligenza condivisa, su questo appartenisce il massimo dell'esponibilità a ragionare e a costruire gli spazi possibili, io credo che noi non dobbiamo, al solo farò mai, essere qui a ragionare in un modo improbabile, io parco dei problemi, uno dei problemi che vi pongo è certamente questo e credo che potremmo affrontare il rischio. Grazie. Applausi Grazie